io volevo dire una cosa stanotte non riuscivo a dormire e quindi sono capitato per caso così è per caso e ho visto che era tutta incazzata perché questo video iniziava che c'erano tre mi sembra ingegneri non lo so che avevano fatto una cazzata e gli avevano sistemato lì fuori la casa di malina avevano fatto una cosa che non ho capito vabbè insomma lei ha detto adesso si incazza adesso si incazza e proprio lei infatti lei è arrivata tutta incazzata e cosa mi avete combinato è così allora adesso venite in casa come li ha detto no e intanto sono andata in casa e lei è tutta incazzata perché quello che avete fatto il lavoro non mi piace però non gli piace no e cosa ha fatto invece di farseli dare i soldi e si è scoppato in casa allora notti loro sbagliano il lavoro lei si incazza e mi ce ne dirà adesso mi rifatte se no mi ridate i soldi e lei se ne scoppa allora lo sai cosa faccio mi faccio chiamare a casa sua di malina e mi dico ti faccio il lavoro ma lo sbaglio e mi fai scopare a casa proprio che mortette cioè tu sbagli un lavoro e invece di farti dare i soldi te li scompa e te li fai scopare non lo so io non cosa sono ma parla un video e mi informerò ancora su questi video così per sapere perché sono curioso di questi video di malina per capire Come ragionano? Ed è tutto qui Puppi Porn! Buonanotte!